Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 prestare attenzione a una perdita accidentale di un cartellone tra Valdichiana e Chiusichianciano in direzione Roma. Si ricorda che è in atto l'obbligo di catene montate o pneumatici invernali sui passi appenninici. Sulla statale Trebbi-Stiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canile in direzione Ravenna. Sulla statale 12 della Betone del Brennero senso unico alternato per Frana al chilometro 68 e 950 tra Popiglio e la Lima. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola fondo stradale dissestato in entrambe le direzioni tra il passo del Muraglione e Ghibullo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!